Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS dopo 30 anni di latitanza. Matteo Messina Denaro sarebbe stato arrestato all'interno di una clinica privata di Palermo. Il blitz è stato coordinato dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano, storico alleato dei Corleonesi di Totorina, Matteo Messina Denaro era latitante dall'estate del 1993 quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da primula rossa.